Niente persa vai La stazione è libera Mi fate manovro Ok vieni un po' indietro Ok Raddrizzati Mettetelo dritto Dritto Così? No così è in tiro E ci sono anche farmacite server Ok adesso Così è moscio Ok adesso vieni giù Ammosciatelo Ammosciatelo Adesso spara il liquido Iniezione diretta E attraccati Agganciato 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 It's the package Perfetto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Sono morto No mi ha ammazzato Ragazzi via Via le cose dalle mani Ragazzi fate male Adesso Lui si è tolto proprio sopra con la testa Imparate a camminare con lo zero ragazzi Con le mani lì Ma ancora più gay di prima Corretti senza niente in mano Yuppie 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 Vai basta ragazzi Dai che abbiamo un sacco di lavoro da fare Oggi ragazzi Vi presenteremo In questo video Che non so quanti episodi Durerà L'auto Affettatrice navale Che potrebbe sembrare Un'auto Un'auto Cosa nasale Però è un'auto Affettatrice navale Vabbè lo scopriremo Io ragazzi Devo fare un comunicato Vi voglio dire che Sono a 10 km Da voi Vabbè Ah è una cosa importante A telecamera spenta ragazzi Abbiamo fatto il cacatoio L'abbiamo rifatto Tanto sapevate già com'era Era inutile mostrarvelo E abbiamo deciso di fare Tanto anche se dite Avete usato i cheat In questo gioco Non esiste la ley Non puoi cambiare La modalità di gioco Più che altro Se scegli survival E survival per sempre Per cui Quindi Ci siamo fatti il culetto Diciamo Hanno fatto Soltanto per mia esigenza Perché come sapete Io ho problemi di Ok Va bene Invece di girare a cacchio Facciamo qualcosa di concreto E Sì Allora dovremmo Alla questa nave diventerà Diventerà La mettiamo vicino al cacatoio Guarda i meteoriti Rega Ma li vedete Sì Oddio Vicino al cacatoio Di fianco dici Sì da un lato Uno qualunque Io ho paura per i meteoriti Ragazzi perché non siamo al coperto Quella è la mia paura E allora il sole Dobbiamo mettere Lì dove sta quella Sì Quindi da sto lato Ma creiamo un mondo nuovo Da capo Da zero Senza meteoriti Che mi hanno cagato le palle Già Eh beh Sicuramente sì Non hanno senso i meteoriti Ma non è realistico Dopo No vabbè L'u-dee Non è che nel tutto lo spazio Dopo magari 49 episodi Che ti fai un culo Della madonna Viene un meteoriti Ti spacca tutto Il cazzo è realistico Eh lì lo sclero Allora Ragazzi Io ho avuto un'idea Ma se noi facciamo Per esempio Un muro qua Nel berlino Vai ci fai pure in berlino vai Allora facciamo Un muro qua Per il cacatore No possiamo anche Tranquillamente piazzarli qua Qui Piazziamo qua Dove sto io Ma piazzarli di cosa? Cipo I frullini Quelli grossi I frullini Che c'è la brioche Comincio La marca di biscotti Che è? Comincio eh Una piazza Ed altri costruiscono No no raga Dove iniziamo Piastri Piastri Dove siete? Iniziamo iniziamo qua Qua dietro Portate il piastro Vai io ci non può Dai De la gravità Togliatevi Il jetpack Se no ci spingiamo Già tu C'è partito uno Raga tutti insieme Dai Arrivo Piazzoli ultimi blocchi Ok ci sono Vai capitano Dai 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 E fai tutto il giro Allora Dai 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 who come la migliore Ingengeni dello spazio Dai 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 Ciao Dai dai Facciamo subito Dai dai cazzo Cazzo Dai cazzo Dai dai Ragazzi Dai 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 Se mi sottone lo chiamerò Dai 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 A grosso dai 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 quasi finito dai 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 di costruzione ne servono dai 100 ora per tornare via ti facciamo un giro 15 minuti arrivo raga 900 componenti di costruzione quanti 900 e di gran caso ne abbiamo giusti giusti mille ma stiamo facendo questo villa ma non questo è questo siete voi ma che cazzo dicevamo al primo erano qua questo ha il terzo quella ma non sono finiti e allora è ma ma è sì prima quando ci porta la roba ex santa e non riempa con una manga di roba sto facendo uno per uno e poi porta la roba noi saltiamo vai vai io aggiungo piano piano le cose che poi siamo in tre ma è un altro trasportatore questo e sopra mettiamo tutti i seghetti no ok sopra le mette seghetti fanno ora non possiamo altrimenti siamo buono buono la vaga strana sensazione a quello è l'accoglitore giusto però non c'è più niente se villa non viene non c'era lui le attrezzi non ce li ho io a will ho detto che sande che sta portando no ma che sfiga perché quello è così e questi no perché questo mancano i componenti le costruzioni sto prendendo e non c'entra l'inventario leggi i numeri guarda che i numeroni assurdi ok questo l'ho finito finito cos'è che serve che porto dubbi piccoli 50 100 dubbi piccoli fai lupetto 50 mia che rapidità o è 199 luca niente se no non ci tocca più un cazzo che ci resti materiali rotondo ex andar ce le sta buttando alcuni vanno alcuni no è perché non posso portare perché mancano materiale perché quando costruisci va in ordine alfabetico acqua luca un piccolo anche se c'è già l'altra roba rimane soltanto dentro ai ragazzi abbiamo finito di testa di usi ma metti metti nella segheria la segheria la segheria la segheria la segheria fatti la segheria vai vai sì che cazzo vai ma se vai è caduto non mi faccio bene ma se non mi abbraccio lui di foglio statue sembra lo sei lo sei all'interno ok servono componenti di costruzione e tanti ancora ok vado a prenderli eccomi componenti è finiti vai a prenderli aiutare qualche navi aspetta aspetta la produzione si può fare no attenzione non mi piace come avete fatto ragazzi va bene così e sono caduti giù e sono morto no 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 ma non c'è più il faro non c'è più i nostri nomi e come li trovi vostri nomi io sono l'autore del server non li vedo non li vedo raga addio sia io non mi trovo non mi trovo ritroverò mai più io non c'è ferro buttiamo una luce un faro qualcosa ci ragazzi vedrino non c'è parro non c'è chiama gli ocorre non esiste il tipo di studio o chi trova luke trova gli occhi amico aspetta lui mettono ragazzi non vedo i vostri nomi eccolo 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 ho trovato un amico eccoli ho trovato ho trovato ma sono vicino no raga dobbiamo mettere il faro però è a parte il faro ci servono materiali tantissimi io sicuramente vado a sbattere guardo posso togliermi la soddisfazione andrà a sbattere sulla base vecchia guardatemi 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 sto andando la spetta ma non c'è ma ancora becco guarda allenta arrivando vado 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 no è giusto la traiettoria c'è solo dentro una cosa che ha sbattuto guardatemi sto uscendo sono nato qua io ne non è distrutto si nasce ancora se non ha spaccato tutto non è spaccato nulla la meteorite non hai preso la nave la meteorite femmina diventata e si è sicuro c'è la femmina giusto dai ci sono è poi strano questo è successo io sto guidando la mia navicella come sto guidando sei ti ha? no non c'è la tua Lu che fai nella mia navicella scusate? vieni a vedere ti prego vieni dai che è successo? va un po' lenta ma ci lavoreremo si è staccato tutto si è staccato tutto la prima navicella senza l'attore hai presente quelle le moto d'acqua però c'era le moto sullo spazio vabbè andiamo a lavorare dai vai andiamo eh vai andiamo a lavorare vogliamo lavorare si giusto dai andiamo a lavorare dove sta? qua la due c'è Willa ragione ragazzi quello fa danni occhio quello fa danni Willa sto facendo giro giro tondo per metter giù tutti i materiali sto facendo spazio Ma non serve energia, scusa Eh, la prende dalla base Ah sì? No, non venite dentro con me, sono buon giù Ah, ok, aspetta Vai, ce l'abbiamo, ragazzi Fatto E l'abbiamo? Manca uno? Manca uno, la mette quello lì che manca Aspetta, aspetta, lo metto io Aspetta, aspetta Oh, che botto Ho visto il fumo Aspetta Dai Mi serve la strada d'acciaio La strada d'acciaio Nella vecchia Acciaio Che la do io, vieni qua Che la cercava Mi ha preso Dammi il salvatore Saldate, saldate Vai, vai Mi hanno ucciso Che sta lì a morire Che è uno che sta lì a morire Quello che sta lì a morire Non quello che avete ucciso, no? No, ma se tu hai proprio andato dentro Lui ti sei buttato in mezzo I salvatore Ma a te delle facce di quattro Cocomoli che ha chiechietti Lui, a me ci è piaciuto come è venuto È veramente carino Voi che dite? Ok, dai Guardate la nostra base, mamma Chi è l'architetto qua? Chi è l'architetto? No, Luz, questa nuova la faremo bellissima Eh, ma bisogna costruire un po' di protezioni No I protezioni? No Tu hai l'architetto messicano? Vai, raga Abbiamo fatto Fanno in giro Funzionano? Vai, vediamo Sì Vediamo se muori Mi sono andato i gelati Hai, fallo andare Sopra sopra Aspettate, aspettate Un aiutino sotto Un aiutino appena sotto Eccomi Aspettate, sono l'inventario pieno È un conveyor qui da costruire Vai Vai Se ti conviene Ti conviene? Ok Dai, siamo attubi piccoli Dai, perfetto ragazzi Sono morto Ma come sei morto? Ma sei un birillo ogni volta Fischia Ti vedo Dai, raga Qui dietro Un birillo Aiuto dietro, raga Grazie 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 Ammazza Ti piace? Ah, che ben dubbi Capitano Capitano Yook Avevo bisogno del suo supporto tecnico Un attimo Un attimo Ah, basta a morire Mancano tubi piccoli motori Un tubo piccoli Sì, a posto Vai, arrivo Aspettate Ok, perfetto Vai, bella Eh, però vogliamo attaccarli a tutti O basta uno Veramente io l'ho collegato diretto con la cesta Quindi dovrebbe andare tutto nella cesta Ora si c'è Non so Ho capito Ma le altre ceste Scusa Quali altre ceste? E' un'essere coviste Ma è lui No, a quelli che sono so conveyor Non so ceste Ah, è vero Ti conveyor Rianimalo, rianimalo Capitano Rianimalo Bocca bocca Io aspetta Aspetta Aiuto Sono toccatevi banno Anche io non so come così Lu, stai fermo Stai fermo, Lu Accappottati Capitano Cosa ne dice del lavoro dei suoi sottoposti? Ecco così Fermi Raga, non tripellate Sto volando Altra direzione Vabbè, allora facciamo così Cos'è stato il facendo? Sì, dai Schiacciamelo Perfetto Allora ragazzi Abbiamo fatto le smeriglie Ma tu vuoi dire che io da mutato Stavo parlando da tre ore Io non ho sentito niente Quindi, che facciamo? Quindi, che cosa hai fatto? Dobbiamo provarlo Dobbiamo provare Mi sei bloccato il gioco Ah, ok Dobbiamo provarlo, Lu Che è una vicenda Che è una vicenda da lì Questa qua è mezza rotta, dai Questa qua la spingiamo a mano No, che altro Facciamo il piedino Il piedone, anzi Alla questa grande Ah, tu dici Facciamo il piedone Così ti agganciamo Raga, facciamo due minuti di pausa Due solo Vedrai Troppo Troppo Dopo Ok Allora ragazzi Abbiamo messo questo piede Che ora vi spiegherò Vi spiegherò Allora Vedete sotto questa navetta? Questo piede Consiste nell'agganciare il ferro Viene attratto Magneticamente E si agganciano le navette Più che altro Per farle parcheggiare O per tenerle ferme Noi questa volta Questo piedone Lo useremo Bensì per agganciare altre navette E spingerle Questa qua Sarà la nostra nave Che spingerà le altre navette Dentro l'affettatrice automatico Per cui Ovviamente È tutto sperimentale Non sappiamo Se dovessi rinascere in qualcosa Vorrei rinascere in questa navetta Almeno schiaccio Ahahahah Basta Ahahahah Come questo mitt the gare Guardario Ad量ati Ecco Dai Dai Veniamo Vabbiamo Chi mi Vai apparatus Offa Vittorio Vedere Quindi Guarda hai visto ma che di colore è diventato ancora no ancora un po' vai vai la p se muove l'hai canciata è pesantissima con calma no l'hai canciata male l'hai canciata male vai guida la sopra non spaccare la base scappata scappata non posso me la stai anziata addosso acchiappola probabilmente non riesce a spostarla è troppo pesante esatto fermo è possibile bravo acchiappato al lato dal lato bravo bravo vai dal fianco dal fianco vai ancora più vicino ti è più vicino vai addosso che te frega basta che la ganci vai vai dai 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 dal fianco si riesce dal fianco ecco eccola vai 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 agganciata agganciata di treggio di treggio di treggio di treggio di treggio tutta potenza due tenele cazzi due tenele dove sta andando sta sprodendo guarda dove sta andando tia ha spesso un pezzo tia non la devi lanciare lascia per me tia 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 no 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 ha sfasciato tia vada su che combinato tia lascia un attimo per far giù una cosa tia tia che combinato andavo da sola esperimento fallito possiamo dirlo ragazzi comunque ragazzi la nave è a posto adesso torno al parcheggio guarda dove ha posto cosa ma dove conciata ma dove ci vogliamo qualche rato tia mi stai a schiacciare tia mi stai a schiacciare vai tia vai raga era un pochino troppo pesante tia dimmi vaffanculo ragazzi è esperimento fallito è esperimento fallito ma la base è ok ormai proviamola ormai tia parcheggia piano piano sopra ormai proviamola mi date voi ragazzi vai avanti vai piano tia movimenti bruschi piano tia nuovi delicatamente vai avanti ok fermo fermo ora allora ora dobbia accenderle aspetta 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 accendiamoli accendiamo le lecce lecce ma io scendo arrivo domani sopra pannello di controllo vedi le attrici facciamo tutto sono tutte on fff no non così fermi fermi allora si prendono tutte insieme esatto si fa il gruppo lo chiamiamo affettatore bravo fallo salva eccolo in alto ragazzi affettatore quando volete mettete on ma dove? aspetta sopra in alto credo il gruppo affettatore ma come si aspetta k pannello di controllo smerigliatrice pannello di controllo affettatore si attivalo vedi che sono attivato tutto qui sotto è partito ora le consiglio di uscire devi andare in giù no tira tanto ora che arrivi a te tira vai in giù piano piano e si scendi scendi ancora un po' ancora un applauso un applauso dai come aspetta mamma mia mamma mia però l'unico babbo che ha battuto le mani uno si è spenta uno si è spenta bella ma non sono spenti vanno in funzione non appena vengono toccate vai scendi scendi tia scendi e dopo come si fa a spingere basta mettere un altro sopra vai indietro tia vai indietro vai indietro vai in retromarcia retromarcia rimani fermo tia vai indietro vai indietro piano piano è come un'auto tia fai finta che tu sia un autolavaggio ho capito e mo vai indietro vai indietro fermo 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 poi faremo qualcosa di automatico figo ma ora lasciamo andare così vai tia scendi ora giù ora no 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 che spacchi d'altra parte tia vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti no quello che mi preoccupa sono i reattori sotto vai a destra alla tua destra alla tua destra aspetta che mi devo rimettere dritto mi spengo i reattori laterali aspetta bravo ora vai avanti basta 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 vai avanti vai avanti li stacco io li stacco io vai avanti vai vai guarda che stacca il giroscopio si affetta quella cosa stacca il giroscopio e non ruota più oh ma raga ma lasciatelo ancora avanti vai avanti vai avanti vai 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 ancora avanti bella bella un po' più in ah ok ancora un po' di in avanti e scendi 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 basta scendi scendi piano 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 no fermo risali risali è finita no ha fatto ha fatto ha fatto non puoi più ruotare adesso ti occhio non puoi ruotare ma sto giroscopio se lo spingiamo verso le lo spingo vai lo spingo spingo oh raga devo scendere scendi 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 ti ha si è divisa la navetta ora dovremmo spingerla dentro noi a mano si come facciamo non ne ho idea prendo vita però intanto ruotando si sta affettando non so se avete notato si 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 praticamente è un autodistruttore se comunque qualcosa si affetta da solo si è bellissimo spingiamolo ma non si muove se la spingiamo eh siamo troppo leggeri noi guarda guarda che lo muovo e se provo con la barchetta sminatrice no vai accolpi dateli colpi mia mia tagliato le lame sono io con la barchetta ma le lame tagliano occhio no e la me ti uccidono di una shotta no occhio eh ma io sono ancora qua vai lui vai lui con quella navicella ah no Alexander vai piano vai vai bello sto colpo bello mamma mia mamma mia ti dico fermate girano girano occhio abbiamo un sacco di piastre adesso allora mamma mia guardate nella cesta dovrebbe essere entrare tutto nella cesta controllate vai dallo in colpo dallo in colpo è da sopra però aspetta vai nice nice sta girando il motore no no non spingelo non spingelo e non sto spingendo sto spingendo è porti via motore così no la base la base la base no succede niente è troppo lento tranquillo non danneggia nulla possiamo smontarlo anche a noi entrate nel raccoglitore non raccoglio raccogliamo la mano dai 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 io perché c'è sta nave andiamo prende il via prende il volo oggi ragazzo stiamo smontando perché cazzo tanto lo culo io farei così inventare buttare giù la roba si raga 20 minuti arrivo eh stai scheggiando la buttando giù la roba guardate ok io sto rompendo qua ok ragazzi missione computer abbiamo fatto l'auto sbanchi spiacchi e nei prossimi video faremo qualcosa di ancora più figo ragazzi io vi saluto perché devo veramente andare un bacione un abbraccio grazie a tutti per aver giocato con me in questa partita e grazie a tutti per averci seguito grazie ragazzi grazie a te Luca ciao a tutti ciao a tutti ciao ragazzi ciao ciao